Mi sono trovato molto bene dopo la sostituzione delle vecchie lampade a ioduri metallici che avevano un consumo di 70 watt cada uno e sono state sostituite con delle lampade a led con un consumo di soltanto 20 watt ma una resa nettamente e qualitativamente anche superiore a quelle di prima. Il consumo è stato immediatamente percepito alla prima bolletta. Il prodotto che abbiamo montato è prodotto dalla PMSSRL che è proprio l'azienda che produce questo tipo di luce e la consulenza è stata ottima e sono molto soddisfatto del risultato ottenuto. È un prodotto che mi sentirei di consigliare anche ad altre imprese. Grazie a tutti! Grazie a tutti!